Si può passare da 500 lavoratori precari nei call center abruzzesi a 500 funzionari telematici da assorbire nella nuova società in-house di IMSS. Questo è l'obiettivo della battaglia portata avanti dal deputato del PD Stefania Pezzopane. L'inserimento, cosiddetta internalizzazione con clausola sociale, deve essere operato entro fine anno, ma l'IMSS è ancora inadempiente nell'applicazione della norma. Il contratto scade a fine anno, c'è una norma che prevede l'internalizzazione entro il 31 dicembre. Questa norma non è stata ancora messa in pratica, ecco perché sto incalzando l'IMS e i ministeri, perché questo ritardo mette in pericolo il lavoro di queste persone. L'onorevole Stefania Pezzopane ha presentato un'interrogazione parlamentare e un ordine del giorno, approvato all'unanimità, in cui si chiede al Ministero e al Governo di vigilare sull'applicazione delle due norme. Ho fatto mettere nero su bianco che la clausola sociale va adottata in assoluto, in forma integrale. Questo consentirebbe di salvare tutti i 500 lavoratori e sarebbe un obiettivo in cui tutta la classe dirigente di questo territorio dovrebbe riconoscersi. Una vicenda nazionale è quella dei call center IMSS che riguarda 3.500 lavoratori, di cui ben 500 nell'Aquilano, tra le aziende Comdata e Network Contact.